Beh, noi non siamo molto religiosi qui nella famiglia Mindy, ma forse dovremmo dire Amen, non credete? Non guardare me, io non so di che parli. Che cosa hai detto, Amen? Ok, allora... Sì, neanche io saprei. Lo faccio io. Faccio io. Caro Padre e Creatore Onnipotente, stasera chiediamo la Tua grazia, nonostante il nostro orgoglio, il Tuo perdono, nonostante i nostri dubbi. Soprattutto, Signore, chiediamo che il Tuo amore ci dia conforto in questi tempi bui. Per affrontare qualunque cosa accada. Per Tua divina volontà. Con il coraggio e il cuore aperto all'accettazione. Amen. Amen. Wow, Yul ci sa fare con le cose di chiesa. È stato bellissimo.